Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come al solito invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina così non vi perdete i miei nuovi contenuti, venire una notifica ogni volta che pubblico un nuovo contenuto sul vostro dispositivo attivando la campanellina, è tutto completamente gratuito, come è gratuito seguirmi su Instagram, mi chiamo PrinceofFootball12, su Instagram, quindi seguitemi anche lì, e commentate, anche quello è completamente gratuito, mi fate sapere cosa ne pensate di questa nuova serie che porterò sul canale, questo è il primo episodio di questa serie, brevemente vi spiego in cosa consiste, parlerò di calciomercato, ma non come solito, ossia non porterò un contenuto dedicato per ogni ufficialità, a meno che non ci sia proprio un video dedicato per un colpo che ritengo importantissimo, e a quel punto ci dedico a un contenuto a parte, in questo contenuto parlerò di voci, bombe di calciomercato, indiscrezioni, ma anche di ufficialità, perché anche le ufficialità porterò su questo video, in particolare in questo primo episodio ci sono una serie di ufficialità di ignota e soprattutto aggiungo anche un breve parere per ogni colpo, in modo che do anche il mio puro e semplice parere, ma nei commenti, fatevi sapere innanzitutto se questa serie vi piace qui sotto, mi raccomando, è completamente gratuito, anche voi cosa pensate di questi acquisti, se sono dei buoni acquisti o se insomma questi calciatori potranno far bene nelle loro squadre o magari nelle squadre qui perché parleremo anche di rinnovi, perché chiaramente ci sono una serie di rinnovi importanti o comunque presunti tali che potrebbero, il calciatori potrebbero rinnovare, ma in realtà probabilmente non lo faranno. Parto subito perché il colpo più importante, circa 43 milioni di euro, è quello del Liverpool, ragazzi, che si assicura a Kodi Gakpo, olandese, ala esterno trequartista, del PSI Doven, ottimo, ottimo il mondiale con l'Olanda, almeno a livello personale e calciatore, ragazzi, per cui stravedo e per me è un ottimo colpo per il Liverpool, il mio voto comunque di 8 per questa operazione e può fare bene. Mi ricorda un po' comunque, diciamo mi ricorda un po' Depay, però è un po' diverso, è un po' diverso anche perché Depay pian piano si è andato perdendo, calciatore è altro calciatore, per cui stravedo, mi piace tantissimo Depay, però piano piano è andato qualche passo indietro, secondo me. La sua esperienza in Niterra non fu affatto buona con i Manchester United e spero insomma che Gakpo, nel cambiato più difficile del mondo, possa fare bene. Ovviamente con il cappello di Natale perché siamo in periodo natalizio. E quindi direi un bel regalo di Natale, appunto per Klopp, con Klopp secondo me può fare bene perché le ali nei moduli di Klopp vanno sempre bene, Salah, Mani, che ormai è andato via, quindi... è probabile che qualcuno di Liverpool vada via perché comunque quando è arrivato Luis Diaz poi se ne è andato Mani, quindi chissà, viene Gakpo e va via qualcuno? Va via Salah? Al momento non si sa niente, però sa di fatto che Gakpo è un nuovo giocatore del Liverpool. Altra ufficialità arrivata alla Serie A, quello dello scambio dei prestiti tra Berezinski e Zanoni, ragazzi. Zanoni giovane del Napoli terzino, Berezinski terzino di esperienza della Sampdoria con una certa esperienza che può dare una mano secondo me anche per la Champions a Napoli. Zanoni ha fatto vedere qualcosa di interessante, va per giocare con continuità. Comunque Berezinski arriva per fare la riserva a Di Lorenzo, Di Lorenzo è titolare. E Zanoni comunque con Di Lorenzo davanti, per lo stesso motivo comunque giocava poco, alla Sampdoria dovrebbe trovare più spazio. La Sampdoria sta attraversata comunque un momento complicato anche dal punto di vista economico, quindi alleggerisce un po' il Montengaggi con l'arrivo di Zanoni in prestito. E quello che manca alla fine è solo la rassicurazione da parte della Sampdoria sulla titolarità di Zanoni, perché chiaramente il Napoli vuole cederlo a titolo temporaneo, ma vuole essere sicura che comunque il giovane terzio italiano giochi con la maglia blu cerchiata e quindi questo diciamo è l'ultimo intoppo per poi mettere tutto nero su bianco. Parliamo ancora di Serie A, parliamo di Amrabat ragazzi che dopo lo strepitoso mondiale con il Marocco è diciamo sulla bocca di tutte le big europee, quella che sembra più avanti ragazzi è il Paris Saint Germain. Vedremo, si parla insomma che l'offerta possa partire su una base di 30 milioni, credo sia difficile comunque che la Fiorentina possa rifiutare comunque un'offerta così importante, comunque per una realtà come una Fiorentina 30 milioni non sono pochi, Amrabat assolutamente un ottimo mondiale, quindi giusto così. Sempre a proposito di voci e di un altro ragazzi protagonista del mondiale, con l'argentina, ragazzi Enzo Fernandez che attualmente è in forza del Benfica, calciatore che mi è piaciuto tantissimo in questo mondiale, si parla di un'offerta di circa 137 milioni da parte del Celsi, offerta molto importante, e il calciatore in forza del Benfica come ho detto, Rui Costa che comunque fa parte della dirigenza, ricorderete leggenda del Milan e della Fiorentina, trequartista portoghese, sta cercando di trattarelo almeno fino a giugno, vedremo se questo mercato di gennaio già partirà, o comunque questo prezzo è destinato a salire, e quindi si scatenerà un'asta. Al momento però i blues sono avanti. Shomurdov è sulla bocca di varie squadre, uscita dalla Roma, e più che altro si è scatenando un casting per l'attacco della Cremonese, cerca un attaccante tra i nomi Shomurdov, Harry e Lasagna. Quindi insomma la Cremonese sta cercando un attaccante, e questi tre sono i candidati. Parliamo di Milan, il Milan sta cercando di rinnovare Leao, come saprete, vuole fare uno sforzo economico, l'offerta è di 7 milioni di euro, e la palla passa al giocatore ragazzi. Sarà lui a decidere, c'è sicuramente la corte di tantissime squadre, anche in questo caso c'è la corte del Chelsea, vedremo insomma se il portoghese rinnoverà. La sua comunque richiesta era quella di aumentare comunque il suo attuale ingaggio, e il Milan ha fatto uno sforzo, offre 7 milioni, e vedremo insomma se questa trattativa andrà in porta. Si è parlato anche di Zaniolo al Milan, onestamente ragazzi, voce a cui credo poco, una voce più che altra buttata lì, Zaniolo sembra sempre sul piede di partenza, però niente di concreto, diciamo una voce che non ha trovato molte conferme. Quella che comunque è il tormentone che è stato estivo, parlando sempre di Milan, è quello di Ziyech, sempre nome in moda, ma ragazzi sembra, voce che anche questo è da confermare, che ha richiesto l'ingaggio sia addirittura di 9 milioni, Ziyech in forza al Chelsea, ma dopo il mondiale con il Marocco, comunque da protagonista, pare che abbia sparato alto sull'ingaggio, chiaramente richiesta non alla portata del Milan, ma non alla portata penso di tutti i club, anche il Chelsea credo che avrà difficoltà, se le richieste di rinnovo sono quelle. Parliamo di Serie B, andiamo in Serie B con il Cagliari ragazzi, che ha preso Ranieri come allenatore, Claudio Ranieri, è un ritorno, buon colpo ragazzi, buon colpo a livello di panchina, Ranieri è un'esperienza incredibile, fece il miracolo con il Leicester, ed è un allenatore con una grandissima esperienza, quindi buono, buono il colpo per i Cagliari, si sta parlando anche di Nainggolan, che ormai è fuori rosa, con il Royal Antwerp, Royal Antwerp squadra belga, che comunque chiude sempre la serie di acquisti, se non sbaglio, diciamo è quasi fatta anche per Blind, che ha riuscito con l'Ajax, e andrà proprio al Royal Antwerp, comunque a quanto pare Nainggolan è fuori rosa, potrebbe tornare proprio al Cagliari, sarebbe secondo me un gratuito ritorno, un po' in là con gli anima Nainggolan, ragazzi, ha delle qualità che sicuramente non si possono discutere, Criccito, altro gratuito ritorno, ha rescesso con il Toronto, ed è un nuovo calciatore, ragazzi del Genoa, vecchio nuovo, perché in realtà poi anche la scorsa stagione è stata al Genoa, senza centrare la salvezza, in questo caso il Serebiseco dove può dare comunque un apporto alla difesa, del Genoa, Moukoko ragazzi, è una notizia comunque abbastanza fresca, non rinnoverà come i bonus di Dortmund, e quindi ragazzi, attenzione perché giovanissimo, non mi sembra di andare errato, se dico classe 2004 dovrebbe essere, giovanissimo ragazzi, che ha già dimostrato tantissimo, più giovane e sordiente nella storia della Bundesliga, è un attaccante alla ragazzi, che può diventare un crack mondiale, e quindi ragazzi le squadre interessate sono tante, perché comunque è un parametro zero, la squadra che sembra avanti è il Barcellona, parlando sempre di Serebiseco, questo è un ex calciatore Serebiseco, protagonista ricorderete, o se non lo ricorderete ve lo ricordo io, Abel Hernández, fu il protagonista di quel Palermo in Serea, squadra fortissima, adesso è il Palermo in Serebiseco, dopo aver attraversato dei momenti bui, e torna la sua squadra che l'ha lanciato, il Peñarol, e quindi, nuova avventura per Abel Hernández, che potrebbe essere anche l'ultima, andando in Serea, sto facendo un po' di salti di campionati, ma abbiamo quasi finito, diciamo, dico qualche altra notizia, poi le prossime me le tengo per il secondo episodio, Danfris ragazzi, c'è l'interesse di varie squadre, Chelsea ancora, ma soprattutto del Bayern Monaco ragazzi, perché l'Inter a sua volta, se dovesse cedere Danfris, vorrebbe Mazzurari, Mazzurawi, che ha fatto un buon mondiale, ragazzi, il mondiale ha fatto comunque, alzare molte valutazioni di mercato, ma ha fatto anche parlare di vari calciatori, ragazzissimo Mazzurawi, sempre con il Marocco, terzino del Bayern Monaco, che non sta trovando tantissimo spazio, e potrebbe essere il calciatore, che potrebbe sostituire Danfris, sempre che l'Inter lo voglia scendere, comunque farebbe cassa, stiamo parlando di almeno 40 milioni, se non di più, Torino ha preso Averi, che è un 21enne, che l'ha preso da Rimini, in Serea C, vedremo, insomma, è giovane, fa questo colpo, un po', diciamo, di questi calciatori, un po' meno conosciuti, però, così, diciamo, se comunque, dovesse fare il blues valenza, l'hanno preso, veramente, per pochi, per pochi soldi, quindi, giusto puntare sui giovani, si parla anche di, Shomurudov ancora, interessato anche il Torino, in Torino, ma anche di Inzola, e vedremo, insomma, se poi il Torino, potrà su qualcuno, in attacco, anche perché, insomma, c'è Pellegri, di davanti, c'è Sanabria, ma Pellegri, a livello fisico, non dà sempre garanzie, sulla sua integrità, parliamo di Napoli, e poi, ci vediamo nel prossimo video, perché la notizia, al momento, l'unica, per quanto riguarda il mercato, di Napoli, è quella del rinnovo, dei rinnovi, più che altro, perché c'è il rinnovo di Robbot, che ha fino al 2026, se non sbaglio, anche con occupazione, per il 2027, e si sta lavorando, per togliere la, la clausola, a Kim Min-Jai, perché, c'è una clausola, sul suo contratto, dovrebbe essere, intorno ai 40 milioni, o la clausola recissoria, l'intenzione del Napoli, è quella di toglierla, perché chiaramente, il suo volere di mercato, con le sue, ottime prestazioni, anche con la Corea del Sud, non è che abbia fatto malissimo, il suo volere cresce, chiaramente, prenderlo per 40 milioni, sarebbe un peccato, per il coreano, ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere, se vi piace questa serie, qui sotto nei commenti, è gratuito, nel prossimo episodio, nuove notizie, nuove mombe, spero anche nuove ufficialità, ciao!